Po-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Allo zio Otis serve aiuto. È andato alla ricerca della miniera d'oro perduta, ma è rimasto incastrato in una trappola da qualche parte nella giungla. Oh, cipicchia! Oh no! Quindi per questa missione mi servirà... Chase! Userai il tuo drone per perlustrare la giungla. Ci pensa Chase, signore! E Tracker! Serviranno i tuoi cavi e il tuo super udito per cercare lo zio Otis. Una volta trovato, userai i tuoi attrezzi per liberarlo. Sono tutto orecchi! Todo idos! Bene! Al lavoro, Po-Patrol! Lo zio Otis sarà passato di qua. Ma da che parte sarà andato? Chase, lancia il drone lungo questo sentiero per cercarlo. Certamente! Drone! Tracker, tu vai da quella parte e usa il tuo super udito per localizzare lo zio Otis. Subito! Woof! Cavi! Zio Otis! Ehi là! Si sta facendo tardi, presto sarà buio! Ma non fa niente, lo zio Otis ha bisogno di me! Hola! Ehi là, c'è qualcuno? Mmm, che suono strano! Zio Otis! Non immagini quanto sia felice di vederti! Resista! La tiro giù! Uff! Grazie al cielo! Moltiuso! Grazie, Po-Patrol! E scusate se vi ho causato tutti questi problemi. Non si preoccupi, ogni volta che si perde in una miniera noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Po-Patrol su Nickelodeon! Nickelodeon! ed ed ed